Sul fronte del tempo, Cangiotti, abbiamo visto questo ponte pasquale un po' all'insegna dell'instabilità. Sì, abbiamo avuto una prima visaglia proprio nelle giornate pasquali, poi in queste ore sta giungendo un nucleo di aria molto fredda di Norigia e Artica che sta determinando già in queste ore un deciso peggioramento con venti forti, precipitazioni diffuse e anche un deciso calo delle temperature che appunto favorirà nelle prossime ore anche l'abbassamento della quota neve fino a raggiungere anche i 7-800 metri, quindi quote decisamente basse per il periodo. L'evoluzione invece nelle prossime 24-48 ore quale sarà? Ecco, questa parentesi invernale appunto caratterizzata da quest'aria fredda ci terrà compagnia ancora per diversi giorni fino alle prime ore di venerdì, quindi anche per domani e per la giornata di giovedì avremo ancora una diffusa instabilità con rovesci alternati a schiarite, ancora a temperatura al di sotto della media con venti forti settentrionali e appunto occasione ancora per nevicate nella giornata di domani e anche in quella di giovedì fino a quote alto collinari, quindi qualche fiocco di neve si potrà far vedere anche attorno ai 5-600 metri con accumulo di qualche centimetro oltre gli 800-1000 metri.